Il tempo si dilata quando hai tanti obiettivi da raggiungere. In base alla legge di Parkinson, che è stato un ricercatore inglese sul management, il lavoro si espande per occupare tutto il tempo che hai a disposizione. Se devi preparare una presentazione e hai due giorni di tempo, ecco, ci metterai due giorni. Se invece hai solo 15 minuti, ti sembrerà magico, ma in 15 minuti la prepari. E non è detto che la prima sia meglio della seconda. Se vuoi ottenere tanti obiettivi, dunque, devi cominciare a riempirti l'agenda di cose da fare che ti piacciono e che ti esaltino. Insegui grandi sogni ora. Fai marketing. Cominci a scrivere quel libro che hai sempre sognato. Contatta dei vecchi clienti inattivi. Datti da fare ora. E vedrai che magicamente riuscirai a fare molto, ma molto di più di quello che ti aspettavi. Se ti sembra di avere poco tempo, infatti, il vero motivo non è che stai facendo troppe cose, ma è che ne stai facendo troppo poche. E probabilmente quelle che non stai facendo, stai posponendo, sono anche quelle che ti motiverebbe di più fare. Il tempo si dilata quando hai tanti obiettivi da raggiungere. Ricordatelo. 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 Ricordatelo.